Bruno Vespa intervistando Gorg Gottlob su Rai 1 riguardo il suo passaggio da Oxford all'Università della Calabria ha chiesto con sorpresa, posso chiederle perché ha lasciato Oxford per la Calabria? La risposta di Gottlob ha sorpreso Vespa che è rimasto di stucco di fronte alla decisione apparentemente insolita. Gottlob ha spiegato, perché penso che la Calabria sia il posto ideale per lavorare con l'intelligenza artificiale. L'Università della Calabria ha lavorato per tanti anni su questo e ovviamente attira molto lo studioso. Ho già collaborato con l'Unical, dice, e la Calabria è bellissima. Può essere pericoloso e affascinante, noi all'Università della Calabria lavoriamo adesso proprio a sistemi che possono riconoscere queste manipolazioni e evitare anche questo... Posso chiederle perché lascia Oxford per la Calabria? Lascio Oxford per la Calabria perché io penso che è un posto ideale, ho già lavorato da tanto tempo con la Calabria, con l'Università della Calabria. È un posto ideale per lavorare con l'intelligenza artificiale perché ci sono le due colonne, la colonna simbolica e subsimbolica. Subsimbolica sono le reti neurali e simbolica è la conoscenza, la rappresentazione della conoscenza. L'Università della Calabria ha lavorato per tanti anni su questo e mi attira molto. Io ho già collaborato con loro e noi siamo orgogliosi che ci sia... E la Calabria è bellissima, abitiamo a Paola ed è un posto fantastico, è una grande accoglienza. Siamo orgogliosi che il Sud possa dare anche queste soluzioni miracolose. Questo evidenzia come anche regioni meno celebri possono emergere come centri di eccellenza scientifica, mostrando l'attrattiva della nostra regione. E come la competitività della nostra Università, specialmente in ricerca avanzata nei campi dell'intelligenza artificiale, ha da fare scuola a tutto il mondo.